Task Force congiunta, numero verde e controlli a tappeto. E questa è la roadmap delle azioni concordate dal tavolo tecnico sulla vicenda inquinamento dei corsi d'acqua e del fiume Sele. All'incontro hanno partecipato il presidente dell'ente riserva naturale Foce Sele Tanagro e Monti Remita Marzano Antonio Briscione ed i sindaci dei comuni di Capaccio Pestum, Eboli, Altavilla, Silentina, Albanella, i tecnici dei comuni e i membri del nucleo ambientale investigativo del comune di Capaccio Pestum. Durante il tavolo istituzionale i sindaci e il presidente Briscione hanno lavorato alle azioni da mettere in atto per contrastare il preoccupante fenomeno inquinamento dei corsi d'acqua e del fiume Sele che rischia non solo di avere inevitabili ripercussioni negative sull'ambiente ma anche sull'economia turistica dei territori interessati. A ciò si è aggiunta la sottoscrizione di un documento unico da inviare al ministro dell'ambiente Sergio Costa al governatore della Campania Vincenzo De Luca e alla procura della Repubblica di Salerno. La task force prevede una serie di controlli a tappeto nelle aziende zootecniche del territorio al fine di smascherare coloro che sversano illecitamente i reflui nei corsi d'acqua.